Salve, sono Mariano De Carolis, direttore generale della vostra Cassa Popolare dei Giardini Canadesi Italiana, unico istituto finanziario italiano nel Quebec. Siamo orgogliosi di offrire alla comunità la nostra vasta gamma di servizi finanziari di risparmio di credito ed assicurazione. Non siamo una banca, ma siamo di più. Venite a trovarci. Avanti insieme. Grazie a tutti.